Dalla mia c'è un testo... Ma... Ma... Alle 3. Un'ora? Mezz'ora. Mezz'ora di ferma? Perchè c'ho 7 ore e mezza pagate 8. Eh... Ma avete la mesa o... La mesa, la mesa. C'ho il cestino, c'ho il bannino c'ho... Eh... I turni e così direi... Turni è così... Si si... Quanti facciamo tre turni? Quindi alle 3 e 3 e 4 ti possiamo telefonare? Alle 3 e mezza? Si puoi... Sei sveglio, sei quella moglie di... Hai assumato Lorenzo Sagi che ti può chiamare dalle 3 e 3 e mezza? Si per chiedermi com'è andato... No, dalle 3 e mezza alle 4! Perchè tu? No io che ora... Chi parla di fermare io? Mi è andata a bannino? Mi è andata a bannino? Mi è andata a bannino? Non hai mica suonate? Non hai mica suonate? Hai preso la tarcata dalla tenenza o da te, ci sacchiamo? Hai preso la tarcata... Ecco dopo dopo! Dai! Noi mentre lo dici! Proviamo! Goviamo! Sì! Chi amo? Sì! E livelli! Ate di doggio! Sì! Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.